A questo punto, chi mai potrebbe meglio introdurci alle misteriose dinamiche cosmiche, se non un solutore dell'equazione di Einstein, un grande allievo di Schrodinger, una pietra migliare dell'astrofisica, chi meglio? Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario del CNA, membro di comitati e gruppi di consulenza dell'Agenzia Spaziale Europea e della NASA, consulente della Delegazione Italiana presso la Conferenza per il Visano di Cinebra, membro della Radio Science Team della Missione Spaziale Cassini, ma oggi, sempre e più che mai, alunno disegnano Bruno Bertotti. Grazie a tutti. Bruno Bertotti. Grazie. 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 scientifico di altissimo profilo e respiro internazionale che ha contribuito ad inserire l'astrofisica italiana nella filiera dei più significativi campi d'indagine del novecento, decifrando le porte d'ingresso alla scienza e alimentando a sua volta filoni di studio che giungono sino alle più recenti acquisizioni e conferme il premio di SRI alla carriera 2016 e conferito all'alunno Bruno Bertoff.